appena detto è la barra è è è è è fuori ho fatto tutti i giri veramente ne hai fatti i 5 che andava benissimo la non riprendi ok tentativo numero 2 eh ma che balle tentativo numero 3 è sempre lì che si impica vabbè dai così può anche andare come ritorno al futuro così non verrai guarda 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 Grazie a tutti.